ok ciao a tutti io sono qui dentro la corte di via gluck dove è nato celentano sono arrivato da rozzano in bici vi faccio vedere la mia bici ovviamente americana adesso riprenderò anche le case e sono rimaste tale quale da allora guardate bene al terzo piano abitava adriano celentano scendeva e qui c'era il bagno in comune vi faccio vedere questo qui era il bagno in comune quindi lui praticamente giocava in questo cortile e devo dire che è rimasto tutto come prima come 50 anni fa ed è molto emozionante vi rifaccio vedere terzo piano secondo piano primo piano ovviamente mi hanno fatto entrare una signora che abitava qui che abita qui bene molto emozionato è già proprio come 50 anni fa o più il mitico ragazzo della via gluck adriano celentano abito qui questo che sto inquadrando è il bagno lo ripeto una volta il bagno era all'esterno ed era uno per tutti ovviamente questa è l'entrata al contrario ed è rimasto tale quale veramente un'emozione nel 2018 pazzesca questa è la mia bici americana bene ragazzi che dire un saluto da ross e mitico celentano in diretta da via gluck di Grazie a tutti.